Una variante autostradale che torna a far discutere e soprattutto arricchirsi di dettagli. A renderli noti gli ambientalisti del movimento abruzzese per l'acqua e proprio l'acqua diventa il centro delle contestazioni. Secondo le carte ottenute infatti nel progetto Toto, ad essere toccate dai trafori sarebbero montagne piene di acqua. Parco d'Abruzzo, Parco del Sirente, Gole del Sagittario, Gole di San Venanzio, impatti irreversibili su acquiferi, paesaggio, suolo e qualità della vita. Da un punto di vista ambientale è una tragedia praticamente perché sono trafori, prevede questo progetto, trafori per una lunghezza di 50 km e cioè andranno a bucare le montagne dell'Appennino come in 5 trafori del Gran Sasso. Addirittura vanno a bucare il Parco Sirente-Velino con un traforo di 13 km, i Simbruini con un traforo di 10 km e tante altre gallerie sparse per le montagne abruzzesi. Con le mappe ufficiali della regione Abruzzo abbiamo dimostrato che questi trafori andranno a bucare 10 degli acquiferi più importanti della regione Abruzzo, cioè l'acqua, il patrimonio, cioè le montagne che danno l'acqua anche per dissetarci e per tutti gli usi che ne facciamo. Un progetto assolutamente devastante che noi dobbiamo rimandare al mid-end e noi chiediamo ai cittadini di organizzarsi senza parlare del consumo di suolo, della cementificazione. Un progetto miliardario che secondo le carte esaminate dagli ambientalisti ipotizzerebbe un risparmio di tempo traducibile con una manciata di minuti rispetto a quella attuale. Inoltre, a non convincere il movimento dell'acqua ci sarebbe la poca trasparenza adottata dal governatore d'Abruzzo rispetto all'intero progetto che interessa l'area del Gran Sasso. Nessuna trasparenza praticamente, perché le mappe le stiamo divulgando noi per la prima volta dopo un anno di discussione nelle segrete stanze ministeriali e della regione. Questo è un fatto molto grave a mio avviso. Noi le divulghiamo perché pensiamo che la trasparenza sia il primo aspetto del dibattito. Noi le divulghiamo perché la trasparenza sia il primo aspetto del pubblico.